70 pranzi completi alla Mesa dei Poveri, 12 ristoranti a Fornelli per celebrare la solidarietà. Mercoledì parrocchia di Santo Masapostolo al Pantheon di Siracusa. Celebrare la Pasqua nei giorni della risurrezione per quella solidarietà che la pandemia, nonostante tutte le difficoltà create, non ha cancellato. E' sotto il segno dell'alturismo un'iniziativa di Noi Ristoratori che si terrà mercoledì 31 marzo alle 12 alla Mesa dei Poveri della Parrocchia del Santo Masapostolo al Pantheon a Siracusa. 12 ristoratori, chef, professionisti, tutte i fornelli per preparare 70 pasti da donare a chi ne ha più bisogno. Saranno pranzi completi dall'antipasto al dessert così che in qualche modo questa Pasqua sia per tutti una festività. Si comincia con un mix di verdure, poi si continua con i tipici ravioli di ricotta al sugo. Come secondo piatto saranno proposti gli spiedini di vitello più pane e contorno per finire con dessert e colomba di Pasqua. Quattro portate da asporto causa Covid che hanno il sapore di un piccolo gelo donato dal cuore in un momento in cui i propri ristoratori devono stringere i denti per andare avanti e sperare che il futuro migliore di cui tanto si parla arrivi presto. Guardare ogni giorno la propria attività chiusa non è semplice, dice Giovanni Guarnieri, chef e presidente dell'associazione Noi Ristoratori. Eppure, nonostante il momento drammatico tra ristoratori, si è creato un clima di collaborazione e amicizia, unico, probabilmente elemento positivo, di questa pagina nera. A partecipare all'iniziativa sono le attività Don Camillo, Porta Marina, Civico 25, Cortile di Bacco, Macallè, Crudo, Fish Bar, Room Cucina, Locanda Mastra Rua, Regina Lucia, Il Veliero, Locanda Colibri. Sostengono l'iniziativa Pasticceria Brancato, Pastificio, Loretana Puglisi, Art Fruits e Unigrupp. Grazie. Grazie. Grazie.